L'amministrazione comunale di Caltanissetta informa i cittadini su una nuova novità inerente al funzionamento dell'Ufficio Tributi del Comune e del Capologo Nisseno, che riguarda soprattutto i contribuenti interessati dall'Atari. È stato potenziato il servizio di Helpdesk, raggiungibile telefonicamente anche su nuove numerazioni o tramite mail da mercoledì 15 marzo. I riferimenti sono lo 0934 1935 118, attivo martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 9 alle 13 e il giovedì dalle 14 alle 18, mentre l'indirizzo mail dedicato supporto tributi.caltanissetta.info. Il numero già esistente è lo 0934 74 822, sarà attivo tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12. Intanto sono stati emessi gli avvisi di pagamento Tari 2023, pagabili adesso anche tramite sistema di pagamento Pagopà, oltre che con l'F24. È stato attivato e pubblicato sul sito internet istituzionale dell'ente il portale per i tributi LinkMate, tramite il quale l'interessato può agevolmente comunicare con l'ufficio Tributi. Per raggiungere al meglio i cittadini, il Comune ha lanciato l'uso dei servizi di messaggistica messi a disposizione da App.io, per essere sempre aggiornati sulle comunicazioni del Comune. Grazie. Grazie.